Buonasera, mi corre l'obbligo di una premessa, è la quarta volta che faccio questo intervento alla Scuola San Benedetto, lo dico a titolo di riconoscenza per la Scuola San Benedetto, perché ogni volta che ripeto o riapprofondisco certe cose è sempre un vantaggio. Desidero chiedere scusa fin d'ora a quelli che la risentono di nuovo, però lo dico perché è anche il taglio che intenderei dare. Io non credo di essere un grande esperto in sussidiarietà, ma quello che condivido con voi oggi è il come io ho scoperto che si può guardare questa questione. Quindi fin d'ora chiedo scusa se di fatto spesso traborderò su questioni che sembrano molto personali, ma non che mi interessa comunicarvi un'esperienza mia personale che non è di grande interesse, ma mi interessa comunicare a voi una prospettiva, una posizione che sia personale, cioè di entrare dentro un principio provando a paragonarlo con la propria esperienza. Dentro l'esperienza c'è dallo stato d'animo che avete fino adesso, ai rimorsi, alle gioie che uno ha, o alle soddisfazioni che si porta dentro. I principi di questo tipo o li si guarda così o difficilmente riescono ad essere assimilati. Quindi nella premessa dico che è un approfondimento che faccio personale, chiedo scusa se alle volte sembrerà che faccia troppa forza su aspetti antropologici, ma perché credo, e finora me ne sono convinto, salvo che nella discussione non mi smentiate, che questa sia una possibilità di comprensione. Vorrei lavorare con voi su questi punti. All'inizio proveremo una noiosissima definizione che ha solo lo scopo. Io non darò nulla per scontato, vorrei non dare nulla per scontato, e credo, correggetemi anche Manolo e amici della Fondazione, se è corretto procedere così. Cioè, questa essendo una scuola deve mettere ciascuno in grado di acquisire qualcosa. Quindi non esitate anche a fare domande che percepite come stupide, in quanto non sapete una cosa che io involontariamente do per scontato. Parto da una definizione per azzerare un po' il punto di partenza. Poi è un passaggio obbligato, dobbiamo dire che cos'è la sussidiarietà nell'Unione Europea, riproveremo una prima definizione nostra, cioè riandremo a vedere la prima volta che è stata definita, e da lì partiremo a vedere la storia antica di questa parola fino a entrare nella radice della questione. E poi vedremo in Italia che cosa è stato da noi, fino, spero, arrivare anche agli aspetti più locali, forse anche bresciani della questione. Allora, accettiamo questo punto di partenza, poi tutte queste slide le avrete quindi anche con la didascalia iniziale, con il titolo iniziale in italiano corretto, che non è l'altro nome, quindi non preoccupatevi. Forse possiamo metterci d'accordo che sussidiarietà vuol dire che a ogni livello della convivenza umana, anche qui quando diciamo convivenza umana noi pensiamo al comune, pensate al rapporto con vostra moglie o vostro marito, i figli o la fidanzata, quella è una convivenza umana. A ogni rapporto, i soggetti o le comunità maggiori non devono sostituirsi a quelle minori, nell'esercizio delle loro funzioni, ma piuttosto aiutarli, in latino subsidium a ferre, in tale svolgimento. È come insegnare ai figli a sciare o andare in bicicletta. Non è che puoi sostituirti alla loro fatica, a quello che loro possono fare, il tuo scopo è portare aiuto. In latino portare aiuto è subsidium a ferre. Subsidium erano le truppe sussidiare dell'esercito, quelle che stavano sulla seconda o terza via delle legioni romane, quelle che portavano l'aiuto alle prime truppe. Questa è, in estrema sintesi, il concetto. Nell'Unione Europea la parola viene introdotta con il trattato di Maastricht e nei lavori preparatori e da quel momento entra nei dizionari. Chi di voi frequenta i mercatini del libro usato, potrà avere, anche senza comprarlo, lo prende. Prende un vecchio dizionario prima del 1991, italiano, e difficilmente troverà la parola sussidiarietà. Dal 94 al 95, letteralmente questa parola prima di quell'anno non c'era. Perché nel trattato istitutivo dell'Unione Europea viene espressa questo passaggio. Nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se, e nella misura in cui, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale, né a livello regionale e locale. Ma possono, a motivo della portata degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione. Cioè, dice, l'Unione Europea fa le cose solo quando lo Stato non riesce a farlo. Cioè, il trattato di Maastricht dice, noi ci mettiamo insieme e l'Unione farà solo quelle cose che altrimenti tu non sei in grado di fare. Ma se tu sei in grado di farle, non le farà. E questo è il principio di sussidiarietà. Poi Jacques Delors lo teorizzerà, nasceranno anche gli osservatori sui principi di sussidiarietà. E nella tradizione, diciamo, dell'Unione Europea la parola subsidiarity è abbastanza comune. La prima volta che la parola però compare nella, diciamo, nel pensiero, cioè la prima volta che questa questione si mette a tema è con questo personale, con la quadragesimo anno di Pio undicesimo. Che ogni volta che intervengo qui mi picco di dire che, perché questa è una gara tra papi, è nato nel mio paese, io arrivovo da Desio, e quindi mi piace in questa, anche noi avevamo un papa, cioè non c'è stato solo papa Montini, ma anche noi avevamo un papa. Pio undicesimo, siamo nel 1939, scusate nel 31, e nella quadragesimo anno dice Per la mutazione delle circostanze, molte cose non si possono più compiere se non da grandi associazioni, laddove prima si eseguivano anche dalle piccole. Cos'è che è successo nel 1931? E' successo, cioè c'è ancora addosso la crisi del 29, il papa parla a due anni dalla grande depressione, e quindi nella consapevolezza di tutti c'è un problema globale. Quindi il papa parte con l'osservazione che è percezione di tutti che ci sono cose grosse che non possono che essere fatte soltanto dai grandi. Ok, ma, deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale, due punti, che siccome è illecito, così come è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria, per affidarlo alla comunità, cioè così come è sbagliato che quello che tu puoi fare lo fanno gli altri tutti insieme, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Cioè il papa dice, siamo di fronte a dei problemi enormi, sembra quasi che questi problemi enormi devono essere affrontati da qualcosa di altrettanto enorme. Dice, d'accordo, ma attenzione che deve restare fermo un principio, che così come non puoi sostituirti, la singola persona non può essere sostituita dagli altri, in quello che può fare, così anche le più piccole società non possono essere sostituite dalle altre, più grandi. L'oggetto di qualsiasi intervento della società stessa è aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle o assorbirle. Adesso al di là dell'italiano piuttosto forbito. Dice, l'oggetto di qualsiasi intervento della società stessa, cioè il potere, esiste per aiutare in maniera suppletiva, subsidium a ferre, per portare aiuto alle membra del corpo sociale, non per distruggerle o assorbirle. Dice, questo, qualunque cosa accada, è un principio, ha detto prima, di filosofia sociale immutabile. Questo è un principio della convivenza umana. Questa, nel 31, quindi, in qualche modo, si può dire, è la prima volta che viene esplicitata in questa forma abbastanza sistematica. Come sempre, non è mai la prima volta, se uno prende la rerunovara undiluone tredicesimo trova tracce di questo pensiero, se uno prende eccetera eccetera. Però, è indubbio che nel 1931, nel lessico della Chiesa, nel lessico tecnico, entra questa parola del portare aiuto. E quello che adesso provo a fare con voi è una lunga galoppata per vedere se è vero che questo lungo principio della filosofia sociale c'è mai stato prima, e quindi facciamo un salto indietro nel tempo, cioè proviamo a galoppare, ripeto, lungo un po' la storia e i pensatori. Dico subito che, trattandosi di galoppata, non vedremo tutti i contorni. L'importante qui non è cogliere tutto, è prendere, è che afferriate la questione di fondo. Anche perché è relativamente facile, in fondo la questione di fondo è forse proprio all'inizio. All'inizio di questa storia, forse anche qui, non so se è proprio il riferimento primario, ma io trovo sempre utile ripartire da questo signore che è Aristotele. Siamo nel IV secolo a.C. e Aristotele fa questa considerazione. Sapete, no? L'uomo è un animale sociale, eccetera. In quel passaggio avete poi nei materiali, oltre alle slide, una lunga antologia di questi brani che io vi cito. Aristotele, nella politica, dice appunto, l'uomo è un essere socievole molto più di ogni ape e di ogni capo d'armento. Questa cosa mi ha sempre incuriosito. L'uomo è un essere socievole, più o meno, siamo tutti d'accordo, è difficile per noi immaginare la nostra vita in una cella di isolamento, o ancorché ciascuno di noi ha sperimentato la gioia indescrivibile di rimanere per i fatti propri ogni tanto, e cosa che è assolutamente sana. Ci è difficile pensare che questo possa essere per sempre la dinamica normale. E dice, però Aristotele dice, sì ma questo anche un'ape o un gregge ce l'ha. Non è che le api e i greggi stanno, le pecore stanno in cielo di isolamento, no? Cioè, anche loro fanno la loro vita insieme. E dice, allora qual è la differenza fra noi che stiamo insieme e loro che stanno insieme? Sempre che differenza ci sia. Lui dice, l'uomo solo tra gli animali ha la parola. In particolare poi lui dice, lo riprenderete, non scrivete, ma lo trovate nel testo, non dice? L'uomo solo tra gli animali ha la parola. La voce, invece, indica quel che è doloroso e gioioso, e pertanto l'hanno anche gli altri animali. Ma la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo, e di conseguenza il giusto e l'ingiusto. Teniamola come provocazione, ok? Cioè, lui dice, un conto è la voce, il verso. Se pesto un piede a un gatto e pesto un piede a un uomo con lo stesso martello e lo stesso vigore, probabilmente la voce sta... noi ci comportiamo allo stesso modo. Ma dice Aristotele, intravedo un'altra questione, che dico la parola, tenete conto che poi in greco, come sapete, la parola è logos, che è logica, dialogo, psicologia, cioè che è la ragione, che è un'altra cosa, che è la parola, porta dentro qualcos'altro, che non è la somma della martellata sul mio piede, ma metto dentro qualcosa. L'osservazione che fa Aristotele in sostanza è noi stiamo insieme agli altri, anche noi stiamo insieme come stanno insieme le pecore, come stanno insieme le api. Ma portiamo dentro questo stare insieme qualcosa che è la parola. Cioè, tenetela lì, che poi alla fine... Un salto di un po' di tempo. Questo è San Tommaso, 1225, la Somma Teologica. E Tommaso si pone in problema, ok, ma quando ci mettiamo insieme, perché ci mettiamo insieme? E dice, l'aiuto che la comunità, l'ausilio della comunità è necessario a me, dice, per due ragioni. La prima è sostanziale, cioè nessuno di noi, di per sé, da quando è uscito dalla pancia di sua mamma, sarebbe qui se non fosse stato per qualcun altro. Se volete, di una straordinaria banalità, ma è interessante. Nel senso che è un dato oggettivo. Cioè, qualunque opinione tu possa avere, il fatto di essere con qualcuno è la condizione necessaria per esserci. Non è detto che sia una condizione sufficiente, però è necessario per esserci. E questo puoi anche far finta di no, ma così è anche se non vi pare. Cioè, è una cosa che è così. E questo è di assoluta evidenza. Però, dice Tommaso, questa è la prima ragione, ma il vivere in comunità permette inoltre a te non soltanto di vivere, ma anche di vivere bene. Allora, in questa distinzione tra il vivere, che è quello delle api e del greggio, e il vivere bene, riecheggia un'idea che è tra la voce e la parola. Cioè, noi non viviamo di solo la voce, a noi interessa anche vivere bene. Come dire, a noi la voce è una cosa, ma ci interessa anche la parola, cioè portare dentro qualcosa in più. L'uomo non è, e qui fa un altro passaggio, che è interessante, e dice, ok, ma se tu stai insieme agli altri, perché vuoi vivere e vuoi vivere bene, chi comanda? Tu o gli altri? Dice, l'uomo non è ordinato alla società civile in forza di tutto il proprio essere, di tutti i suoi beni. Il potere deve assicurare, accrescere e conservare la perfezione degli esseri dei quali ha cura, correggere se trova qualcosa in disordine, supplire se ci sono mancanze, perfezionare se qualcosa di meglio può essere fatto. E cioè dice, l'essere insieme, che ti fa vivere e ti fa vivere bene, è fatto per aiutare te a questo scopo. Vogliamo, eh? Questo è Altusio. Altusio è un olandese, gius naturalista, cioè studioso di diritto, essendo olandese è studiato al diritto, perché gli olandesi nel Cinquecento, avendo i mari, dovevano decidere chi passa e chi non passa, quindi esplodevano di diritto. E in anni nei quali... E Altusio è molto sconosciuto da noi, pone alcune questioni affascinanti, e dice, le famiglie, le città, le province, sono esistite prima degli stati, i quali da esse sono derivati. La proprietà del regno appartiene al popolo, mentre al re spetta l'amministrazione di esso. Se volete, riporta il tema di Tommaso, che dice, la comunità esiste perché tu viva, e perché tu viva bene. E esiste per aiutare te a vivere bene. È come se ci fosse una precedenza tua rispetto alla comunità. Altusio la trasforma rispetto alla dimensione politica, dice, le famiglie, tu, la città, le province, diceva il Papa, le comunità minori, sono esistite prima degli stati. Anzi, gli stati derivano da quelle, sono funzione di quelle. La proprietà del regno appartiene al popolo, al re, spetta l'amministrazione di esso. Tenete conto che sono anni nei quali dire questa cosa, se nel 1500 non era esattamente pacifica. Cioè, il tema ne andava della tua testa a dire una cosa, perché sono gli anni in cui nel 1500 nasce Carlo V, sono gli anni del grande impero sburgico, sono gli anni di Francesco I di Francia, sono gli anni di Enrico VIII. Cioè, le nazioni e gli stati accorte andare a dirgli che la sovranità che tu amministri il bene degli altri non era esattamente una questione che oggi fa anche un po' chic, perché c'è la telecamera a dire. Per quanto grande sia il potere che viene concesso ad altri, sarà sempre tuttavia minore del potere di chi concede. Il monarca, dunque, non ha il potere supremo, perpetuo, di sopra delle leggi, e di conseguenza non sono di sua proprietà ai diritti di sovranità, sebbene egli possa averne l'amministrazione e l'esercizio per concessione del corpo associato. John Locke, questo è più famoso, siamo andati avanti di quasi un secolo, è il campione della tradizione liberale americana. E anche qui, qui leggiamo velocemente, perché è una ripetizione un po' dello stesso concetto, qui è forse un po' più divertente. sebbene gli uomini quando entrano in società rimettono l'eguaglianza, le libertà e il potere esecutivo che essi hanno nello stato di natura, nelle mani della società, onde il legislativo ne disponga secondo che il bene della società lo richieda. Cioè, sebbene noi facciamo così perché qualcuno ci amministri, tuttavia, poiché ciò non accade che per l'intenzione che ciascuno ha di una migliore conservazione di sé, Tommaso, perché uno esista, cioè io lo faccio perché tu mi faccia esistere, della propria libertà e proprietà. E questo è il più divertente, questo è divertente come parabola. Alexis de Tocqueville è francese, è nobile di origine, agiato, nasce all'inizio del XIX secolo e è un francese che decide a spese sue, aiutato anche dallo zio, di andare a trascorrere un periodo di soggiorno di esperienza negli Stati Uniti. Torna dagli Stati Uniti, dall'America con una straordinaria sensazione di libertà, immaginate la tradizione più, in qualche modo, centralista, forte europea che arriva praticamente dai cowboy e si scontra con un'idea di libertà e di diritti dove John Locke era un po' verso di lui, sono due mondi che si confrontano. E infatti lui scriverà questo libro La democrazia in America che è un classico della scienza e della politica e sostanzialmente c'è una battuta che identifica bene il suo spirito e dice quando in Francia c'è un bisogno si fa una legge, quando in America c'è un bisogno si fa un'associazione. Coglie bene in questo la differenza fra questi due poli e scrive nella democrazia in America un passaggio fa questo passaggio molto divertente e dice si avvicina un tempo in cui l'uomo singolo sarà sempre meno in grado di produrre da solo le cose più comuni e necessarie alla vita. Vi ricordate la frase del Papa all'inizio? Sembra quasi che di questi tempi ci siano problemi così grandi che non bastano più le comunità piccole. E Tocqueville aveva già detto si avvicina un tempo in cui l'uomo singolo sarà sempre meno in grado di produrre da solo le cose comuni cioè la complessità aumenta e dice però quindi le funzioni del potere sociale si accresceranno continuamente e saranno rese sempre più vaste dal suo stesso sforzo. Cioè a quel punto il potere sociale dice ci penso io a fare le cose sostituendosi sempre più spesso e più si dedicherà a questo e più dovrà creare una struttura per fare questo. più il governo si metterà al posto delle associazioni attenzione questo resta ancora oggi di straordinaria attualità più il governo si metterà al posto delle associazioni e ci faccio io tu stavi facendo la cosa faccio io lo vedremo dopo la storia vostra di Brescia da questo punto di vista è straordinaria più il governo si metterà al posto delle associazioni che magari stavano già facendo le cose e più i singoli perdendo l'idea di associarsi sentiranno il bisogno che esso venga in loro aiuto cioè a un certo punto saranno loro che diranno fallo tu queste cause e questi effetti si riprodurranno continuamente c'è stato lo dico subito vedremo dopo un chedi profetico in questa osservazione di Tocqueville perché è indubbio che la nostra storia anche italiana sia stata in larga parte la storia di questo ristrappare l'attività a chi già la stava facendo in qualche modo e anche un richiedere che venisse strappato vabbè John Stuart Mill questo lo leggo solo appunto perché questo è un po' più ironico dice i mali cominciano quando invece di fare appello all'energia alle iniziative di individui e associazioni il governo si sostituisce ad essi quando invece di informare consigliare e all'occasione denunciare e imporre dei vincoli ordina loro di tenersi in disparte e agisce in loro vece ho finito la cavalcata era per dirvi ripeto questi non sono probabilmente i più autorevoli non sono esaustivi c'è una tradizione di pensiero che dice che si pone la domanda ma noi cosa stiamo insieme a fare e se stiamo insieme è per me e se è per me è anche per la mia vita buona non solo per la mia sopravvivenza e nello stesso tempo è come se ci fosse un crescendo di livelli sociali che rischia costantemente di sostituirsi a questa mia responsabilità il tema è ma perché ci occupiamo di questo tema cioè cosa c'è dietro la questione in fondo cos'è quella roba della parola di Aristotele il passaggio che vorrei fare adesso chiusa la definizione la storia e la cavalcata nel pensiero adesso proviamo ad andare a fondo di questa questione antropologica e qui rinnoverò per l'ultima volta le mie scuse mi soffermerò più di una volta su aspetti quasi personali miei ma forse anche comuni per cercare di far capire che questa è una roba per dirla in termini accademici che riguarda esattamente il livello di ciascuno di noi qualunque sia la condizione in cui è cioè perché è così importante e perché è principio permanente che vuol dire che è una cosa che nello spazio e nel tempo resta cioè per l'eschimese e per l'uomo dell'amazzonia per l'uomo preistorico e l'uomo del futuro varrà non dipende dalle contingenze per intenderci il principio democratico non è così perché andare da Luigi IX di Francia a dire devi fare le elezioni non capiva no? e probabilmente fra 400 anni scopriremo che l'idea di democrazia è diversa cioè ci sono dei principi che non sono per me ci sono dei criteri di giudizio ci sono delle direttive di azione ci sono invece dei principi per me ecco la sussidiarietà è uno di questi cioè qualunque forma noi ci metteremo insieme questa roba qua sarà vera quindi ecco questo è il tema adesso a me avviene sempre da dirlo tu più di te allora questo forse è l'unico vero punto interessante della questione perché io devo far spazio a te cioè se noi siamo insieme perché tu vali e io parto se posso dall'esempio di mia zia che è io avevo credo 6 anni 7 anni questa cosa l'ho capita benissimo quel giorno e e mi ricordo ero andato a Milano da mia zia e con lei ero andato al supermercato è di una banalità straordinaria supermercato non so se allora e avevo visto un pennarello nero sapete quei pennarelli neri grossi e non so perché mi era piaciuto tantissimo e io ricordo lucidamente che volevo quel pennarello nero ma non avevo i soldi per comprarlo e non osavo chiedere a mia zia di comprarlo e e quindi ho adottato un silogismo perverso che si chiama furto mi sono appropriato indebitamente di quel pennarello nero lo ricordo benissimo aveva quei tappi con le striscette un po' rigide che c'erano una volta io ho il pennarello io sono arrivato a casa con in mano questo pennarello che avevo rubato e e mi ricordo ancora quando c'erano mi in bagno vicino al bagno mia zia vede il pennarello ma questo pennarello io ho detto l'ho preso al supermercato ma l'hai rubato e mi ha detto sei un ladro e e io ricordo che in quel momento proprio io ho detto sì sono un ladro però no cioè non sono un ladro cioè sì sono un ladro ma io non sono un ladro cioè io beh è come quando tua moglie ti dice so come sei fatto no non lo so neanche io come sono fatto cioè non lo so cioè tant'è che cioè chi cioè quando il rimorso cos'è e quando uno gli dispiace di qualcosa che cos'è è che riconosce che quella cosa non è lui che io sono più grande di quella cosa lì cioè qualunque cosa io posso avere se no non avresti rimorso no se se non ci fosse una sproporzione fra quello che hai fatto il mio pennarello e quello che sono io mia zia ha ragione ha ragione nel me ma non sono un ladro o pensate alla noia perché uno si annoia l'annoia è esattamente come diciamo Rabia l'annoia non è ripetere le stesse cose ma è la percezione che forse qualcos'altro potrebbe accadere cioè è l'annoia è se quando i miei figli mi hanno chiesto ma papà com'è l'inferno mi è andata benissimo perché mi è venuta questa intuizione no e gli ho detto prendete la cosa che desiderate più di tutte in quel momento ma ancora adesso per me la cosa che desideravo più di tutti quasi era la perché poi noi c'è sempre qua è la era la Volvo 90 bianca ancora adesso cioè davanti a una Volvo 90 bianca mi commuovo cioè la Volvo 90 bianca è quello che voglio io dico bene prendete quella l'inferno è che ce l'hai per sempre sempre per tutta l'eternità hai quella roba lì non vita natural dura o cioè ce l'hai sempre cioè prendi una cosa e la ripeti che ti piace ma ripeto è facile per noi pensare prendete letteralmente la cosa che desiderate di più e ve la tenete per sempre questo è tecnicamente l'inferno cioè perché perché tu sei più se prendi tu sei più di quella sei addirittura più del desiderio che hai cioè non ti basta niente di ciò che desideri perché tu sei più di te infatti se voi fate la somma di carbonio di cos'è di acqua di molecole di idrogeno di qualche siete voi siete esattamente quello e siete o quando uno si sente utilizzato ogni giorno uno è più di sé e poi c'è il tema del superfluo questo qui è bellissimo ma per questa del superfluo lo devo passare è della bellezza sul superfluo la bellezza ve li racconto così allora questa è una delle cose più belle che ho incontrato al liceo è il Shakespeare ed è il re Lear non so se avete presente la storia del re Lear io no perché al liceo andavo malissimo però credo sia nel secondo atto il re Lear è il re e ha tre figlie e queste tre figlie una è brava le altre due sono cattive sposate con altri due cattivi la scena che interessa a noi è questa le figlie di fronte al re Lear che perde i colpi iniziano a dirgli ma cosa te ne fai di 10.000 soldati te ne bastano mille non hai bisogno di 10.000 per difenderti e arriva l'altra sorella e dice ma mille mille ma te ne bastano 100 e alla fine l'altra ancora ma perché 100 10 ma in fondo non ti serve non ne hai bisogno e re Lear dice questa frase pensate al tema del superfluo non statemi a discutere del bisogno perfino gli accattoni anche i più miserabili hanno qualcosa di superfluo nella loro peggiore miseria non date alla natura più di quel che la natura necessita e la vita dell'uomo finisce per valere la vita della bestia voce e parola le api e noi se stai nel necessario stai lì il superfluo tu dice che sei una dama se ti mettessi addosso abiti così ricchi solo per stare al caldo dimmi che bisogno avrebbe la natura di vestire con tale eleganza non è di certo l'eleganza tenerti calda ma quanto al vero bisogno cieli datemi pazienza ho bisogno di pazienza noi esattamente come un'ape esattamente come una pecora abbiamo almeno tre bisogni fondamentali abbiamo bisogno di coprirci perché fa freddo abbiamo bisogno di mangiare e tendenzialmente di riprodurci più o meno in questi tre ambiti c'è gran parte della nostra vita d'accordo e infatti esattamente come loro ci proteggiamo dalle intemperie ci nutriamo e ci riproduciamo ma le api e gli animali con la voce e non con la parola non inventano l'architettura non inventano l'eleganza o la perversione e la poesia d'amore cioè il bisogno è identico ma è come se noi attraversassimo questo bisogno fuori dalla risposta puntuale a noi non interessa solo quella risposta non riusciamo a stare dentro la risposta puntuale al bisogno che ci piacciono strabordiamo sempre e quindi mangiando inventeremo la forchetta e la nouvelle cousine riscaldandoci nelle case inventeremo l'architettura o l'eleganza degli abiti e appunto nell'amore saremo capaci di perversioni pazzesche e di sublimità ma non staremo mai in mezzo perché la ripetizione di quel mezzo ci dà noia cioè non ci basta e ripetuta per sempre è un inferno cioè il bisogno non ci quello che Raleigh dice il superfluo perché tu sei più di te cioè tu porti dentro quello che stai facendo una cosa che è più di te che ti piaccia o no è così e allora perché la sussidiarietà è importante perché è nell'azione che fai porti quel di più che non è misurabile guardate che uno fa così ripeto anche se uno cioè la forza dell'argomento non è che è un'idea cioè è così perché è così perché uno dovrebbe strappare se stesso a se stesso per negare che cosa ma c'è una vabbè questa è l'immagine questo è l'iccaro di Matisse quel punto perché lo vedremo dopo in fondo è come se tu fossi questo qui che vola nelle stelle ma il punto questo punto più di te è quello che Matisse mette col pallino rosso cioè c'è un punto di te che è più di te per il quale in qualche modo voli ecco questo mi ha sempre colpito questo che vi leggo adesso è sembra di sentire Aristotele e poi vi dirò alla fine chi è perché questo è veramente insospettabile anche l'animale produce si fabbrica un nido abitazioni come fanno le api i castori le formiche solo che l'animale produce unicamente ciò che gli occorre immediatamente produce in modo unilaterale mentre l'uomo produce in modo universale produce solo sotto l'impero del bisogno fisico immediato l'animale mentre l'uomo produce anche libero dal bisogno fisico le api non scarabocchiano mentre parlano adesso c'è tutto attenzione il prodotto dell'animale appartiene immediatamente al suo corpo fisico mentre l'uomo si pone liberamente di fronte al suo prodotto quindi l'uomo costruisce anche secondo le leggi della bellezza perché la bellezza è questa cosa la bellezza è esattamente il riconoscimento dell'eccesso che porti dentro il bisogno quando dici che è bello è che riconosci la risposta al bisogno ma la bellezza come la verità è che eccede secondo la corrispondenza del tuo punto rosso del cuore quello che scrive queste cose non è un monsignore della canonica di 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 Bresciana ma è Carlo Marx perché mi ero posto sempre questa domanda quando i miei figli hanno fatto la maturità studiando Marx ho detto Marx è famoso per l'alienazione del lavoro ma io ho detto vabbè ma facciamo finta che non sia alienato per lui cos'è il lavoro e se voi andate a leggere i manoscritti filosofici del 44 Marx descrive cos'è il lavoro nelle parole che abbiamo letto adesso cioè il lavoro è l'espressione di te che sei più di te cioè la bellezza è l'eccesso che hai dentro è il bene che quando tante volte la sera da giovane piangevi nel tuo letto e non l'hai detto mai a nessuno perché ti mancava qualcosa poi da vecchio sembra che queste siano cose da giovani ma non l'hai dimenticato è quella nostalgia di una cosa più grande che ti piacciono questa cosa ce l'hai addosso e nessuno può dirti so come sei fatto anche quando ti coglie in fragrante come mia zia io so che sono più di questa cosa ok questo è così vero che appunto è nella natura delle cose per cui è affermato anche da questo mattacchione che allora dice la tornando a noi perfino Dio governa in questo modo guardate questo è il catechismo della chiesa cattolica Dio non ha voluto riservare a sé l'esercizio di tutti i poteri assegna ogni creatura le funzioni che esse in grado di esercitare secondo le capacità proprie della sua natura questo modo di governare deve essere imitato nella vita sociale il comportamento di Dio nel governo del mondo che testimonia un profondissimo rispetto per la libertà umana dovrebbe ispirare la saggezza di coloro che governano le comunità umane l'alternativa tra sospetto e la fiducia certo in un mondo in cui in un contesto in cui noi siamo come dire per dire questo bisogna partire dall'idea che tu porti dentro qualcosa di positivo cioè che il tuo contributo è positivo lo dico perché gran parte del pensiero contemporaneo con cui noi ci misuriamo è il contrario invece che Tocqueville è Hobbes per cui il tuo desiderio potenzialmente è nemico del tuo e quindi ci vuole un arbitro che sarei io che sono lo Stato forse non è una spiegazione di Hobbes ma più o meno è questa ed è anche quella idea per cui di senso comune per cui la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altro cioè perché c'è una potenziale conflittualità fra tutti e allora lo scopo della vita civile è mettere insieme quello che potenzialmente sarebbe diverso chiaro che tu devi scegliere se parti così se parti da un'antropologia diciamo negativa o da un'antropologia positiva è la legge per i greci si traduce nomos no? normativa nomos era anche la parola che indicava il muro di protezione e questo rende bene secondo me l'idea che la legge allora è come il muro che custodisce immaginate come nella Sicilia dove c'è il vento quando fanno i muri per proteggere dal vento cioè un muro che protegge un seme che deve crescere allora la legge non ha lo scopo di creare le condizioni per cui tu possa fiorire anche la legge non è per creare il bene ma per mettere te nella condizione di esercitare la tua perfezione e infatti il bene comune non è la somma algebrica dei nostri beni cioè non è che se tu rinunci un po' del tuo e io rinuncio un po' del mio allora troviamo il bene comune come il minimo denominatore questo è un contratto il bene comune è l'insieme dice la Chiesa di quelle condizioni che permettono a ciascuno di sviluppare la sua vocazione cioè che permettano a te di essere più te o come diceva Locke che governi che governi ma non si metta a fare ma che crei quel nomos che permette a noi di esprimerci uno degli esempi e questo andrà velocissimo che a me ha sempre molto affascinato è l'allegoria del buon governo di Lorenzetti a Siena che molti di voi avranno già visto alcuni come me hanno subito al liceo come avete visto è un liceo tristissimo adesso provo io non sono un esperto in storia dell'arte però mi ha sempre colpito che siamo nel 1300 gli statuti di Siena sono 1309 questo qui è Siena gli statuti di Siena chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri per onore prosperità e accrescimento della città e dei cittadini Lorenzetti fa questo affresco non so se avete presente com'è la sala dei saggi di Siena questo è l'affresco centrale immaginate che poi di qua ci sia l'allegoria del cattivo governo e di qua l'allegoria del buon governo questa è la parete centrale solo alcune battute per darvi l'idea di come era se ne possono prendermi l'esempio ma questo sicuramente straordinario guardate la porta alla vostra sinistra la porta alla vostra murata era quella da cui uscivano i sette saggi di Siena e qui c'era una parentesi che è sempre simpatica i sette saggi di Siena Siena in quel tempo anche perché si apriva la via dei pellegrinaggi era più o meno come New York cioè era al massimo della sua fioritura aveva perfino battuto Firenze e la piazza del campo hanno iniziato a costruirle in quegli anni il palazzo del comune era costruito in quel tempo quindi siamo nel pieno di una potenza sono gasati di Siena è consapevole del proprio potere e inventano questa forma di governo dei sette saggi i sette saggi questa è interessante escono da quella porta che vedete alla vostra sinistra i sette saggi vengono cambiati ogni sei mesi a turno vengono cambiati ogni sei mesi perché si dicono gli statuti uno si corrompe a fare il politico e questa cosa mi ha sempre colpito non tanto per dire anche loro erano corrotti quanto per dire che la politica non sta in quanto elimina la corruzione ma in quanto si dà una regola per gestire i nostri limiti cioè erano meno assolutisti di quello cioè non hanno detto allora via tutti hanno detto no no siamo tutti non è che se adesso fai il pulito domani cioè non è che se scagli la pietra allora non sbagli cioè siamo fatti così ci si aiuta no purché il nomos questo è particolare allora le figure proviamo a raccontare le figure sono un pessimo descrittore ma è molto la figura che vedete alla vostra sinistra che è seduta sul trono è circondata da tre è la giustizia è la giustizia che ha in mano una bilancia è la giustizia tra l'altro anche qui commutativa e distributiva sopra di lei c'è un'immagine là in alto che è la è la carità cioè la carità sovrasta la giustizia la carità per intenderci vuol dire guardare te per quel di più che hai la carità non è voler bene la carità è che io ti considero sono anche capace di giudicarti ma riconosco che tu sei più del male che fai ma anche del bene che fai ok la carità è trattarti come tu vorresti essere trattato la carità sta sopra la giustizia che pesa dai due piatti della bilancia non so se li travedete scendono due corde che si uniscono sotto questa figura che ha in mano una pialla sulla pialla c'è scritta concordia è l'armonia ma è anche una specie di suonatore tenete conto che concorde corde cordia è la radice di cuore è l'immagine di 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 Matisse perché il tuo cuore è esattamente questa capacità di ok allora dalla giustizia arriva la concordia e dalla concordia quella corda viene passata di mano ai cittadini a questo a questo a questa fila di cittadini che tiene in mano la concordia che sono uniti dalla concordia e fanno le loro cose sono occupati in cose diverse e questa corda arriva su fino a quella figura centrale che è l'uomo seduto bianco e nero che sono i colori di siena che è il bene comune e cioè il bene comune è l'esito della carità che diventa giustizia e che per un accordo che prendiamo noi viene viene posta a lui cioè viene generato dalla nostra concordia l'alternativa sarebbe il sovrano illuminato che spiega agli altri come essere buoni mi spiego invece per Siena è dalla carità della giustizia cioè dal rispetto serio del tuo desiderio perché non è che se allora il tuo desiderio è positivo puoi fare quello che vuoi mi spiego ma ultimamente riconosco la tua possibilità positiva la regolo e questo genera una concordia che ci tiene insieme e creiamo te come bene comune intorno al bene comune ci sono le virtù temporali e teologali e la più bella forse quella bianca che è la più bella quella bianca centrale è la è la è la pace che che si riposa sotto quella macchia nera che adesso è sbiadita ma sarebbe d'argento sarebbero le armature ma quello che volevo sottolineare è questa idea di questa idea di bene comune come esito di questa decisione va bene e abbiamo finito in Italia la nostra storia qui vado velocissimo perché è più divertente è stato il contrario di questo allora con questo con Napoleone pensate che l'insegnamento dice è una funzione dello Stato le scuole devono essere istituzioni dello Stato e non istituzioni nello Stato l'approccio di Napoleone non è un approccio opposto cioè dice faccio io non fai tu esse le scuole esistono grazie a lui e per lui lo Stato è unico e le sue scuole devono essere le stesse ovunque più o meno è la nostra idea di scuola ecco questa mappa che non riuscite a leggere però la trovate ve la faccio vedere perché è simpatica noi in Italia abbiamo avuto aspetta mi manca Crispi ecco abbiamo avuto un campione che era Crispi nel 1889 Crispi che allora era presidente del consiglio e aveva l'interim anche del ministero degli interni fa una legge che è la cosiddetta legge sulle opere pie lui va chiede a tutti i carabinieri di censire tutte le opere pie cosa sono le opere pie sono gente che si mette insieme magari tenendo la corda quella con corda che genera la possibilità di soluzioni per qualcuno cioè il mio desiderio di bene lo metto insieme a te e costruiamo una risposta a qualcuno ai bisogni della gente in Italia quando fa l'inchiesta lo fa fare i carabinieri vengono censite non le leggete ma lo trovate nel foglio che vi do questa è la tabella ufficiale finale avete nella riga in alto le regioni e nella colonna di sinistra le tipologie di opere allora per darvi un'idea il totale delle opere che Crispi censisce in Italia sono in tutto il regno 21.819 opere opere vuol dire congregazioni di carità opere piele mosiniere sussidi per l'istruzione e posti di studio scuole per l'istruzione secondaria istituti di dotazione perché c'erano le ragazze che non avevano la dote perché erano rimaste vedove e c'erano della gente che si metteva insieme perfino per trovargli la dote e poterla fare sposare c'erano i sussidi agli orfani abbandonati i sussidi di latte e bagliatico perché chi non aveva il latte non aveva il latte fondazioni di soccorso ai detenuti sussidi alle puerpere ospedali ospelati per cronici ospizi marini istituti a favore di rachitici trasporto di ammalati riformatori per discoli pie case di industria ce n'era di ogni cioè qualunque bisogna avere la gente si metteva insieme e ti rispondeva bene Crispi dice chiede ai carabinieri di censirle e le tira fuori uno per uno dopo vediamo le vostre anzi guardate questo questo qui è Brescia Brescia ha 497 opere di questo tipo ha 224 congregazioni di carità 70 opere piele mosiniere i 33 istituti di patronato per i liberati dal carcere la gente che c'è dal carcere sono 33 scusate 33 ospedali ospedali per i cronici 33 ospedali sono tanti 86 opere pie per curi a domicilio 10 asili infantili 13 orfanotrofi 5 case di ricovero per mendicità 12 ospizi per catecumine eccetera Crispi fa il censimento mette e inventa una legge per cui tutte queste opere chiede che appartengano allo Stato e nel discorso alla Camera in cui lui pone la fiducia su questa legge finisce con questa frase poi nei verbali c'è scritti vivi applausi uno dei doveri dello Stato moderno è questo che l'educazione l'istruzione e la beneficenza appartengano alla potestà civile noi ne rivendichiamo l'esercizio e adesso è alla base della legge che discutiamo quella legge fu approvata è restata in vigore fino a 7 8 anni fa era la legge sulle opere pie cosiddetta legge sulle opere pie ha fatto un'equivalenza fra opere pubbliche che c'erano e opere statali infatti anche noi facciamo fatica a distinguere ciò che è pubblico è statale per noi a noi non ci viene automatico pensare che una cosa pubblica è statale fino al 1889 non è la ricchezza cioè le opere bresciane sono state statali solo nell'ultima frazione di secondo sono sempre state pubbliche senza essere necessariamente statali la costituzione nostra l'articolo 2 stabilisce che la repubblica riconosce e garantisce tenete conto non dice crea non dice fa riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità si svolge la sua personalità cioè in cui quel puntino rosso cioè tu ti metti insieme agli altri per una vita buona quindi la formazione sociale il mettersi insieme per una vita buona per dirla con Tommaggio è riconosciuto dalla costituzione all'inizio dice riconosce questo perché i tuoi diritti non ci sono solo da solo ma mettendosi insieme agli altri e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale come sapete oggi all'articolo 118 viene riconosciuta anche questa idea di sussiderietà verticale che dice che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che per assicurare l'esercizio unitario siano conferite a province nella nuova versione adesso in discussione scompare solo la parola provincia città metropolitane regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione ed ad equatezza questo è uno dei significati la dimensione verticale per cui la comunità più piccola sta prima delle comunità più grandi ma c'è anche una dimensione orizzontale che dice che Stato, regioni città metropolitane province anche qui nella nuova versione scompare la parola provincia comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà tendenzialmente la nostra Costituzione fa suoi questi questi principi faccio solo una battuta poi veramente mi taccio perché la vostra scuola poi sborda sulla sulle aspetti dell'amministrazione locale se voi prendete il codice il nuovo codice degli appalti recentemente approvato vi sono due magari articoli su cui sarebbe interessante se volete lavorarci in gruppo perché personalmente non sono arrivato a una conclusione sono il 189 chiamato interventi di sussidiarietà orizzontale e il 190 il famoso baratto amministrativo il 189 in sintesi vi leggo gli stralci interventi di sussidiarietà orizzontale cioè riprende quell'idea che per aspetti di interesse generale ci si può mettere insieme per svolgere questa funzione e dice che nelle aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale riservate alle attività collettive sociali e culturali di quartiere con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo perché un po' di crispi c'è rimasto eccetera possono essere affidati in gestione per quanto concerne la manutazione con diritto di prelazione a cittadini eccetera e poi nel comma 2 dice per la realizzazione di opere di interesse locale gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità che mi sembra poi lo guarderete voi che mi sembra interessante anche perché sottolinea la progettualità cioè non dice che il comune sa cosa fare e lo affida a te che sarebbe un po' tocqueville cioè io so già cosa fare lo erogo siccome non c'è i soldi lo fai tu che sei gratis e quindi vieni dice anche la progettualità la può essere affidata quello che mi lascia un po' in dubbio è il comma 3 di questo articolo 189 che dice decorsi due mesi dalla presentazione della proposta cioè la proposta stessa si intende respinta cioè nel caso in cui il comune non ti risponde entro due mesi la proposta è respinta questo da un certo punto di vista crea qualche problema perché è come un articolo che in tre commi dice ok puoi fare interventi di interesse generale li puoi fare addirittura come progettualità sarebbe stato l'ideale mi sembra o almeno l'ideale sarebbe stato abbastanza coerente dire se entro due mesi non ti ho risposto va bene ma dire che se entro due mesi non ti ho risposto va male c'è ripeto qualche anticorpo crispino che viene a dire comunque alla fine non so io cosa quindi questo sarebbe un laboratorio su questo sarebbe interessante però resta sulla carta interventi di sussiderità orizzontale quindi potrebbe essere non so se la scuola è interessata a approfondire quell'aspetto nei prossimi incontri e l'altro sul baratto amministrativo non è male l'idea che gli enti territoriali definiscono con apposite delibere i criteri condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale sulla base di progetti presentati da cittadini e questi contratti possono riguardare la pulizia manutenzione abbellimento di aree verdi piazze eccetera ed è il sistema per cui se ci si mette insieme ma anche individui nella cura delle aree verdi ti vengono scontati alcune oneri fiscali cosa che peraltro la detrazione fiscale è anche rispetto al 189 interessante perché qualora il progetto passasse sono scontati degli oneri fiscali quindi insomma intorno a questi due articoli sarebbe interessante se qualcuno di voi voglia approfondire però devo dire che complessivamente non è che uno abbia un bilancio interamente positivo della nostra esperienza nazionale e chiudo con una frase che mi sono sempre dimenticato di citare di Aldo Moro così lo faccio per il munifico direttore scientifico che ci ha raggiunto alla costituente quando Aldo Moro commenta i lavori dell'articolo 2 perché poi si è detto per inciso non è cioè è stata una bella battaglia perché una costituzione che inizia con un articolo 1 come il nostro non so se avete presente la costituzione tedesca o quella americana magari eccessivamente pompose però all'inizio uno fa appello alla libertà alla felicità a non dico addio ma almeno la nostra inizia della Repubblica Poligia Democrata che è fondata sul lavoro e ci è andata bene perché era sui lavoratori ma poi quindi però nell'articolo 2 rimediando a questo tema vi ricordate la riconoscimento della della tuo della tuo diritto inviolabile sia come singolo sia nell'associazione nella in cui si sviluppa la tua personalità e nel discorso del 24 marzo del 47 quando Aldo Moro in assemblea costituente presenta il discorso dice commenta questo articolo dice è un passaggio anche abbastanza commovente perché dice in questo modo noi poniamo un coerente svolgimento democratico poiché lo Stato assicura veramente la sua democraticità ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell'uomo guardato nella molteplicità delle sue espressioni l'uomo che non è soltanto singolo che non è soltanto individuo ma che è società nelle sue varie forme società che non si esaurisce nello Stato la libertà dell'uomo è pienamente garantita se l'uomo è libero di formare degli aggregati sociali e di svilupparsi in essi lo Stato veramente democratico riconosce e garantisce non soltanto i diritti dell'uomo isolato che sarebbe in realtà un'astrazione Aristotele ma i diritti dell'uomo associato secondo una libera vocazione sociale bello grazie è finito